Sabato, seconda serata, appuntamento col film dell'orrore. Il film dell'orrore di questa volta è un film molto tosto che sconsiglio a chi è claustrofobico. Si intitola The Descent, discesa nelle tenebre. È diretto da Neil Marshall, regista soprattutto di cinema d'azione. Aveva fatto, si era distinto con un film che si chiamava Dog Soldiers, che era un misto tra cinema bellico e cinema licantropico. In questo caso racconta un gruppo di speleologhe, speleologhe amatoriali, che per superare una tragedia subita da una di loro entrano in una grotta sconosciuta. E in questa grotta succede veramente di tutto. Vi dicevo che è un film non per claustrofobi, è anche un film che sconsiglio a chi non ama i mostri, ma insomma ovviamente che ve lo dico a fare, è un film dell'orrore. Quindi immaginate di entrare in una grotta sconosciuta e a un certo punto in questa grotta incontrate Gollum e tutta la sua famiglia. E Gollum c'ha fame, ecco. E' un film tutto al femminile, le protagoniste sono tutte donne, è visionario, è onirico, non vi dico la fine, ma insomma comunque c'è un certo punto una fuga in cui non si capisce bene che cosa sta succedendo e che cosa non sta succedendo, è particolarmente tosto ed è vietato ai minori di 14 anni, che è il motivo per cui in prima serata non lo possiamo mettere. Questo per rispondere a qualcuno che ogni tanto dice ma questi film metteteli in prima. No, i film vietati vanno dopo le 23 e quando vedrete questo capirete perché. Buon divertimento, buona FIFA con The Descent discesa nelle tenebre.